Ance e Regione Inter vengono sul piano casa. Stamattina l'incontro tra i rappresentanti dell'Unione Sarda Costruttori Edili e l'assessore regionale L'Urbanistica Sanna. In discussione proprio la legge regionale numero 1 impugnata dal governo e ora l'esame della Corte Costituzionale. Un'eventuale stroncatura, secondo i presenti, affosserebbe il trend positivo dopo 15 anni di stagnazione e oltre 35.000 posti di lavoro persi in ambito edilizio. L'abbinata del 110% con il piano casa, con la legge operativa, la legge 1 del piano casa ha fatto sì che le imprese della Sardegna potessero lavorare a vantaggio dei cittadini della Sardegna ai fini della riqualificazione totale piena sulla ecosostenibilità e sulla capacità di non inquinare l'ambiente per gli immobili della Sardegna. Intanto lancia in cassa il parere della docente universitaria Torchia che stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad applicare il piano casa perché l'efficacia della legge non è stata sospesa dalla Corte Costituzionale. Ma sull'esito di quest'ultima l'assessore Sanna si mostra fiducioso. In punta e diritto noi abbiamo ragione da vendere. Quindi se si ragiona solo col diritto non è possibile darci torto, diciamo. Quindi confido nell'esito positivo. Chiaro che questa è la madre di tutte le battaglie perché significa che passa il principio che noi abbiamo competenza in materia paesaggistica e quindi che possiamo pianificare da soli. Cioè i sardi saranno protagonisti del proprio futuro. Ed è la legge urbanistica definita da Sanna come la madre di tutte le battaglie quella a cui punta la giunta Solinas con l'intenzione di crearla partendo dal basso col coinvolgimento di tutte le parti in causa per far ripartire la Sardegna.